Ma non è ragazzi che ci stiamo abituando un po' troppo bene, perché tra un pochino tutte le settimane qui arriva un titolo ATP, ne arriva un altro, ne arriva in Turchia, nel caldo di Antalya, arriva questa storia bellissima di Lorenzo Sonico che oggi probabilmente riceve il suo pieno compimento. Riesce a battere Lorenzo Sonico al termine di una battaglia di quasi 3 ore, praticamente 2 ore e 45 di match, batte Mio Mirkezmanovic annullando un championship point al serbo, Lorenzo Sonico vince 6-7, 7-6, 6-1 e si laurea campione del Turkish Airlines Open. E' veramente una gioia fantastica per Sonico, per questo ragazzo che io lo stimo tantissimo, forse anche più di altri tennisti forse più talentuosi di lui, perché comunque magari senza mezzi fisici enormi, senza una palla pesante, senza un talento cristallino, Lorenzo Sonico si è costruito. Questa carriera grazie al tanto sacrificio, grazie al tanto lavoro, grazie alla tempra che ci mette in campo, grazie alla grinta che ci mette su ogni punto, grazie a tutte le corse che fa su ogni palla, è veramente una grinta straordinaria. E comunque l'abnegazione anche del tutto il lavoro che in questi anni comunque ha fatto Lorenzo Sonico per arrivare a questi livelli, perché se lo merita di sfondare, di entrare dalla porta principale del tennis che conta a 24 anni, entrerà nella top 50, sarà il numero 46 del mondo, batte comunque un pur ottimo, è il mio Morkesmanovic, però veramente ragazzi nel terzo sette aveva finito le banane, perché comunque giochi 2 ore e 50 ieri con 35 gradi, ne giochi altre 2 ore e 45 oggi con altri 35 gradi, è chiaro che comunque il tuo fisico non può reggere, perché ieri ragazzi aveva vinto con Thompson in una battaglia più che altro di resistenza, perché Thompson alla fine della partita quasi collassava in campo, era quasi una lotta di sopravvivenza tra i due, probabilmente anche grazie alla giovane età, comunque che Zemanovic, classe 99, era riuscito a reggere ieri nonostante il grande caldo, invece Lorenzo Sonico oggi riesce a batterlo grazie alla tanta convinzione, al tanto coraggio che non aveva avuto nel primo set, visto che non era riuscito a chiudere con 4 set point a favore, non era riuscito a chiudere il primo set e se l'era lasciato sfuggire, ma nonostante ciò Lorenzo Sonico con grande pazienza e grande carattere è riuscito a riportarsi sotto e a trascinare la partita al tie break nel secondo set, poi era già cosa fatta nel terzo set dove c'è stato un monologo totale da parte di Lorenzo Sonico, che quindi appunto riesce a far planare il quarto giocatore italiano nella top 50 ATP, abbiamo infatti un Fognini top 10, abbiamo un Berrettini top 20, abbiamo un Marco Cecchinato top 40, adesso abbiamo un'altra top 50 come Lorenzo Sonico, che può regalarci tante soddisfazioni in questi anni, potrebbe fare secondo me una carriera alla seppi, forse anche qualcosina in più, perché questo ragazzo sembra che migliori, sembra che non abbia, diciamo, miglioramenti esponenziali da un torneo all'altro, ma sembra che questo ragazzo cresca, scresca con grande costanza, l'ha dimostrato anche dall'anno scorso, quando è entrato in top 100, pian pianino ha cominciato a giocare gli ATP, crescendo partita dopo partita, piano piano, con una crescita costante, una crescita costante che lo sta portando ad altissimi livelli, e nonostante appunto comunque non abbia una palla particolarmente pesante, a livello ATP, comunque ha un fisico ragazzi che si è confrontato ad altri giocatori che hanno chili e chili di muscoli, Lorenzo Sonico è un giocatore che è a livello ATP, non ce lo scommetteresti mai in top 50, e invece riesce a prendersi il primo titolo ATP, veramente bellissimo, tra l'altro l'abbraccio a fine partita con il suo coach, perché questo ragazzo ha preso, peraltro rispetto a tanti altri tennisti, la racchetta in mano relativamente tardi, a 14 anni, prima giocava per gli giovanili del Torino, quando ha detto basta, basta con il calcio, ha cominciato a giocare a tennis e direi con discreti risultati, grazie al tanto, tanto sacrificio, e la tanta voglia di sacrificarsi che porta sempre lontano, e quindi grande Lorenzo Sonico, lo aspettiamo adesso al primo turno di Wimbledon, dove non avrà appunto una partita impossibile contro Marcel Grano Yers, ma intanto, ci arriviamo diciamo a Wimbledon relativamente con la pancia piena, perché Sonico riesce a vincere questo ATP, ma state tranquilli che secondo me qualche sorpresa ce la riserverà anche nello slam londinese. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate un valore di un mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, grande, grande, grande Lorenzo Sonico, un trionfo straordinario per il cuore toro, è un cui veramente ci ha messo il cuore granata, l'anima che ha magari ereditato, anche grazie alla sua iniziale carriera calcistica, con una grande grinta e grande tempra, la garra proprio sudamericana, e quindi grande Lorenzo Sonico, e arriviamo al prossimo video.